Enrico Boerci sarà il presidente e amministratore delegato di Brianza Acque anche per il prossimo triennio. Confermato per la terza volta all'unanimità dall'Assemblea dei Soci e Riunitesi in provincia, il numero uno dell'azienda sarà affiancato anche stavolta da Gilberto Celletti come vicepresidente e Alessia Galimberti come consigliera, a cui si aggiungono nel nuovo consiglio di amministrazione a cinque membri Miriam Casiraghi e Paolo Cipriano. Dobbiamo lavorare insieme a tutti gli attori perché questo territorio che è tra i più urbanizzati d'Italia deve cercare di essere un pochino più permeabile. Dobbiamo trasformare un po' di cemento in aree verdi, dobbiamo valorizzare quello che abbiamo di verde per renderlo delle volanizzazioni naturali, dobbiamo cercare di fare quegli interventi che sono necessari e ci dicono essere stati necessari i risultati delle ultime piogge perché le vasche volano si sono riempite ma hanno impedito che i nostri centri si allagassero. Ha provato all'unanimità anche il bilancio che ha fatto registrare un utile netto da 2,07 milioni di euro con ricavi pari a quasi 107 milioni di euro, investimenti record da 65,3 milioni con crescita anche del margine operativo lordo a 31,8 milioni di euro. Un bilancio che si chiude ancora con un utile, con un EBITDA che sale rispetto all'anno passato e con un'ambizione rinnovata anche rispetto a quella che è un mandato preciso che ci hanno consegnato oggi i nostri sindaci cioè lavorare per una sinergia stabile in questo territorio tra il mondo del servizio idrico integrato ma anche coinvolgendo quella che è l'attività legata ai servizi ambientali quindi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento delle strade. Infine, ratificata la decisione di creare una rete con Comoacqua e l'Aeroreti per rafforzare ulteriormente le sinergie tra i gestori pubblici dell'idrico nei territori di Monza, Como e Lecco con apertura anche ad altre società a partecipazione pubblica.